Ecco qua, quando andiamo su Sussacrae di Oslavia. Ho fatto quest'estate. Ora si chiama Monte Sabottino, qua non è in Italia, è in Slovenia. Scusate il fiatone. Eccolo qua. Ma si, dentro magari non parlo, è un posto sacro, cercherò di stare zitto. Qui dopo vado di là a vedere quella campana, ma eccolo qua. Silenzio, è un posto sacro. Eccolo qua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.